il sospiro cioè il desiderio di beatrice che esce dal mio cuore oltrepassa passa oltre la sfera celeste che ruota gira con moto più largo nel sistema tolemaico la sfera di cui parla dante è il primo mobile detto anche nono cielo o cristallino che contiene al suo interno tutti gli altri cieli al di là di esso c'è l'empireo dove risiedono gli spiriti beati una straordinaria capacità intellettiva intelligenza nova che amore attraverso il pianto infonde nel sospiro in lui lo trascina costantemente in alto quando il sospiro egli è giunto là dove desidera cioè l'empireo la sede dei beati dove ogni desiderio trova pieno appagamento vede una donna che viene onorata riceve onore dagli altri beati e luce brilla così tanto che lo spirito pellegrino pellegrino perché uscito dal mondo la contempla stupefatto mira in virtù dello splendore che emana il sospiro